E effettivamente la premiazione per questa classe, la Ruki Youth BIS, alla fine della prossima classe Ruki Youth. I nostri giudici siamo in posizione, siamo dunque pronti per riconunciare. Con questa classe Ruki Youth BIS, in parte a me il numero 6, un ingresso. Ha già fatto il suo ingresso in arena nella pastiera 893, città Gianna Dora, cavaliere di Scello Giuliani, proprietario Rodrigo Alberti. Allora, 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 all Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.